Ovvio che sia andata male la sua applicazione è tunnel. Farò il macellaio. Avevo come la sensazione di dover fare di più. La cannabis verrà legalizzata. E questa è la tua idea geniale per gli spacciatori? Qualcosa che potesse dare una svolta. La macelleria Asan diventa il coffee shop. Asan. Mio padre fu subito entusiasta. Te la puoi tenere, l'ho venduta, è finita. Mia sorella ha creduto in me fin da subito. Sempre pronto a fare l'idiota. E nonna... nonna si è unita a noi. Che fate? Ma non mettiamo la rete elettrica. Perfetto. L'affare sarà unito, legale. Parola dove? Due milioni e mezzo. Oh, però... Gendarmeria nazionale. E quindi... Che sta succedendo qui? Un disastro. Tutti insieme... Abbiamo iniziato un nuovo business. Forca troia. Il business del futuro. Ho l'onore di presentarti la pastra erba. Ben nome la pastra erba. Grazie a tutti.